Ehi amico Parlo con te, si proprio con te E io sai chi sono? Non lo so neanch'io Quindi riniziamo da capo Ehi amico, sai chi sono io? No è ovvio Sono Ludovico Canali dei Rossi, è chiaro E chi è Edit One? Beh Edit One non è uno, sono tanti Sono sei, sei ragazzi che come me Dai 20 ai 25 anni più o meno di età 25 anni di età nel senso il range Hanno deciso di fare praticamente La stessa roba che avevo io in testa Ovvero creare una comunità Un movimento di gente creativa Che ha voglia di fare cose fighe Originali, senza stampino Senza fare quella roba commerciale che vedi in giro Lavorata sull'estetica Il messaggio, l'immagine, i colori, la luce E realizzare dei videoclip musicali Fighi. C'è Andrea Catini Che è un altro regista come me, si occupa parallelamente Con un altro stile di fare altri video Poi c'è Chiara Iann che è colorist e art director Una in gamba Poi c'è Alessio Berini che si occupa della produzione Senza di lui saremmo completamente spacciati È chiaro, organizza tutto Poi c'è Giacomo Gian Felici Che si occupa di quella che è la fotografia Lei, la luce Come si posiziona nella stanza Come si fa a fare quella roba lì Se ne occupa Andrea Mariotti è colui che si occupa per adesso Di gestire alcuni spot pubblicitari E backstage che trovi qui sul canale YouTube Chi sono io? Io sono il sesto Il regista Quello che si è occupato nel 2014 Di prendere iniziativa per creare questo E che si occupa tutt'oggi di gestirlo bene o male E di fare un po' da leader Ma allo stesso tempo mi occupo personalmente Di girare altrettanti videoclip come regista Perché facciamo i video? Perché Noi, sono io Io ho il concetto di fare un video Come il concetto di realizzare qualcosa di concreto Che rimarrà per sempre sulla terra E lo potranno vedere negli anni E negli anni E negli anni Cioè, parliamone Tu fai un video e poi te lo potranno vedere Fra 200 anni, capito? Stai scrivendo un pezzettino di storia A tutti gli effetti E l'altro punto, caro amico Quale vuoi che sia, cazzo Se non i soldi I soldi, sì Il denaro Il denara C'è un botto di mercato Si possono fare un sacco di cose fighe E se sei il migliore Beh, quei soldi sono proprio tuoi Perché faccio questo video? Per introdurvi a quello che stiamo per lanciare Ovvero un format Dove condivideremo con voi Quella che è la nostra realtà All'effetto pratico Quello che ci è successo ogni volta Realizzando un videoclip Ce ne abbiamo una marea Da prendere come esempio Perché tu ti stai chiedendoci alla quarantena Come fate Facciamo perché ce l'abbiamo già Quindi Vogliamo spiegarvi Quali sono stati i problemi Che abbiamo incontrato Come li abbiamo gestiti E come li abbiamo risolti Perché magari tornano utili a te Proprio come sono tornati utili a noi Cioè Il nesso è abbastanza semplice Tra l'altro sono successe sempre Un sacco di follie Avventure Cose strane Secondo me è una roba figa Sì Perché non farlo? Ho deciso di farlo Ho messo la luce L'ho fatto Ve l'ho raccontato Ora Nel prossimo video Vedrete quello di cui siamo capati Deciderete voi Se seguirci o meno Però metti like E seguici comunque Qua sotto Like Segui Io sono Ludovico Ci vediamo nel prossimo video Ciao Grazie a tutti.